Ciao ragazzi eccoci qua con un video di minecraft dove vi farò vedere il nuovo tempio che ho parlato tanto di questo nuovo tempio che costruivo eccetera Il nuovo tempio è stato terminato finalmente e dopo tre giorni di rotture di coglioni ce l'ho fatta Ok non ve lo faccio subito vedere perché voglio andare prima a dormire per farvi poi godere vedendolo ogni giorno Allora vi dico subito che il tempio non è finito nel senso è finito strutturalmente ma internamente è ancora da addobbare se vogliamo chiamarlo così All'interno è così all'esterno idem devo ancora modificare magari faccio un giardino dei marciapiedi queste cose qua E veramente vi prego di non posso dire allora è lì e non ve lo voglio far vedere quindi faccio questo Non è questo ragazzi questo qua è solo una cosa che non vi sto neanche a dire perché spreco tempo Comunque vi prego proprio di commentare e dirvi che ve ne pare Allora io ci ho messo tre giorni e che dire mi piacerebbe sapere perché io potevo anche finirlo e fare il video finale Se è venuto bellissimo tutto finito ok però ho preferito farlo vedere così com'è E ci tengo a sottolineare che non ho usato nessun niente cioè a parte in modalità creativa non ho usato MC Edit perché veramente lo detesto E non voglio essere diciamo nella classe nabbi non è che tutti quelli che lo usano sono nabbi perché poi magari fanno delle cose assurde E quindi non mi sento di dare colpa a nessuno comunque non lo ci intendevo a dirvi che non lo uso perché così mi faccio diciamo una bella figura Volevo appunto chiedere questo video l'ho fatto perché non so come decorare l'interno cioè come sfruttarlo Vi volevo chiedere a voi il vostro parere e ditemi cosa ne pensate e ditemi soprattutto come lo volete decorare Io stavo pensando a visto che voi mi seguite cioè non è che mi seguite ogni tanto guardate Comunque qualcuno mi segue queste cose qua mi ha detto che faccio dei bei video e lo ringrazio molto veramente grazie di cuore Ehm vi volevo chiedere cosa ne pensate quindi datemi delle idee come decorarlo nei commenti oppure messaggi personali cosa volete voi Allora siete pronti guardiamo il mio tempio ok questo è il tempio allora se vi piace mettete mi piace è ovvio Ma stavo pensando che si piace proprio non dico tantissimo comunque boh comunque aspettate un attimo Ehm qua volevo fare una scalinata e qua ho un marciapiede che porta all'interno come minimo solo che appunto non l'ho finito Ok questo è l'interno veramente è grande cioè una cosa assurda e boh è alto Ehm volevo appunto chiedervi se vi andava e vi piaceva così tanto questo tempio se vi piace Ho pensato di farne una in miniatura e spiegare come si faccia in modo che voi ve lo potete fare tranquillamente nel vostro server Non so come giocate offline online come volete Ehm magari vi non so come dire vi piace volete farlo anche voi solo che non sapete le misure e tutto io vi darò tutto E così voi mi raccontate Va bene ragazzi commentate iscrivetevi e mettete mi piace se vi piace Ehm non siete obbligati a chiedermi a darmi risposte su come addobbarlo se vedo che nessuno mi risponde faccio di testa mia Però se vedo che qualcuno si interessa sono proprio sinceramente contento di ascoltare i suoi consigli Ok ciao ragazzi grazie di tutto e grazie alle visualizzazioni A presto con un nuovo video ciao ciao